Un quarantenne in Germania pensate che ha letteralmente fatto fuori l'anziana madre, precisamente a Dresda, ripeto in Germania, in un centro commerciale chiamato Altomarkt Gallery, dove quest'uomo ha letteralmente fatto un'irruzione o si è andato a baricare in uno dei negozi presenti in quel centro commerciale, andando a prendere anche degli ostaggi. Non è ancora chiara del tutto la dinamica di fatti, quindi effettivamente parlando che è successo, barra caduto, all'inizio di vita ha fatto sapere di una sparatoria, ma non è stata una vera e propria sparatoria, in realtà l'uomo si è baricato all'interno di questo centro commerciale, dapprima però ha fatto fuori l'anziana madre, credo sui 70 anni di età. Il quarantenne è stato ovviamente arrestato, quindi messo, assicurato alle forze di giustizia, alle forze, diciamo così, dell'ordine. Per fortuna i ostaggi che erano stati presi dall'uomo sono stati messi in salvo, sono stati messi al sicuro, la donna purtroppo morta non ce l'ha fatta. Insomma, una vicenda questa che è dell'incredibile a Germania torna di nuovo in primo piano dopo che già pochi giorni fa un'altra persona aveva fatto una cosa simile, sempre in Germania, però in un altro luogo e in un'altra città, sempre tedesca ovviamente. Vi ringrazio in primis per la visione, in segundis per l'ascolto di questo video di oggi, dentro di Youtube, iscrivetevi, seguitevi al commentario. Ciao da Ariadne, a prossimo video.